Caro benzina, costi insostenibili e scioperi in vista Pistole rubate, 130.000 euro in casa, arresto a Pian di Meleto No al biolaboratorio a Torraccia, avanza la mobilitazione Banca di Pesaro per Ile Sociale, aiuti a Caritas e Abio Dall'Oliveriana la sfida all'epolo museale del futuro Una buona serata telespettatori di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Edizione delle telegiornali di oggi, venerdì 13 gennaio Che apriamo occupandoci delle caro benzina che In queste prime due settimane di gennaio sta caratterizzando il nostro paese Un mese che poi proseguirà con due giorni di sciopero da parte dei benzinai Vediamo il servizio, se ne è occupato per noi il nostro Edoardo Razzi L'aumento dei costi del carburante e le nuove misure sulla trasparenza varate dal governo Meloni Hanno sollevato un polverone sulla categoria dei benzinai Che non ci stanno e invocano lo sciopero per il 25 e 26 gennaio L'aumento di 18 centesimi su benzina e diesel da parte dei gestori È stato accusato come manovra speculativa nei confronti del reale prezzo dei carburanti Presunta speculazione che è stata contrastata da un decreto del governo Che prevede l'obbligo da parte dei gestori e dei distributori Di esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita In modo che ci sia trasparenza nei confronti dei consumatori Un intervento che non è andato giù ai benzinai italiani così come a quelli di Pesaro Accusati di aver alzato i prezzi Ma in realtà si tratta solamente di obbedire alle direttive impartite Dalle compagnie petrolifere per le quali lavorano Ma è assurdo quello che chiede il governo Cioè chiede una trasparenza su un prezzo della benzina Che in realtà viene fatta speculando sul prezzo della benzina Perché andando a prendere realmente quello che costa il carburante Non dovrebbe costare così Quindi voglio dire il governo dovrebbe andare a dare mano A quello che fondamentalmente sono i prezzi della benzina reali Cioè quello che sono le tasse, le accise sopra Non andando al benzinaio che fra compagnia e distributore Insomma quello che rimane è veramente poco Guadagno che per i benzinai rimane invariato Circa due centesimi ad ogni litro erogato per il self Più o meno il doppio per il servito Le imposte pesano per circa il 60% sulla composizione del prezzo del carburante Il restante 40 è per due terzi assorbito dal costo delle materie prime del trasporto E ciò che resta è il margine che rimane ai gestori del distributore Noi come gestori praticamente si parla di centesimi al litro Cioè una compagnia petrolifera ha naturalmente un guadagno maggiore Ma andando a fronte a spese diverse Cioè una compagnia deve praticamente avere la manutenzione di un distributore Pagare a noi, gli oneri di trasporto, tutti Quindi in proporzione è bassissima Con fronte a quello che è la fetta del governo L'aumento dei costi dei carburanti ha generato un evitabile malcontento dei consumatori Costretti a mandare giù l'ennesimo boccone amaro dopo l'aumento del carovite e dell'inflazione In soddisfazione manifestata anche davanti agli stessi gestori dei distributori Si arrabbiano perché costa Naturalmente le persone, non tutti lo sanno, il perché quindi viene spiegato Però fondamentalmente la grande maggioranza di persone fortunatamente capisce qual è la situazione reale Ai gestori viene chiesta trasparenza sui prezzi mostrati Ma trasparenza è anche ciò che chiedono gli stessi benzinai al governo L'intervento del governo è una trasparenza che dovrebbe dare il governo Nel senso far capire realmente cosa c'è su un litro di benzina Un litro di benzina che costa 1,82 euro Dare una spiegazione e dire ok costa così perché ci sono queste accise, queste tasse La fetta, la trasparenza questa dovrebbe essere Non che voglio dire di trasparenza nostra Quindi sono ulteriori costi, ulteriori praticamente problematiche su una cosa minima Dal canto suo il governo Meloni ha cercato di calmare gli animi di fronte allo sciopero indetto dai benzinai La stessa premiera ha fatto sapere che martedì 17 gennaio Incontrerà i sindacati di categoria per tentare di fare chiarezza Ed ora passiamo ad una notizia di cronaca Nello specifico ci occupiamo di un'operazione fatta dai carabinieri di Urbino Che hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e detenzione illegale di armi Un 62enne di Pian di Meleto Durante una perquisizione domiciliare l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo Con la matricola a brasa Di una beretta risultata rubata ad un poliziotto a metà degli anni 90 Di una carabina ad aria compressa Di una pistola a salve cariche priva di tappo rosso E decine di proiettili di vario calibro In casa il 62enne originario di Alessandria È stato anche trovato in possesso di 9.000 euro in contanti E di 120.000 euro riconducibili a svariati assegni Il giudice del Tribunale di Urbino Ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare nelle carcere di Villa Fastigi E ancora una notizia di cronaca che questa volta ci porta al campus di Pesaro Dove nella mattinata di ieri due ragazze delle liceo classico Mamiani Sono state vittime di un agguato davanti all'ingresso del liceo Marconi Da parte di due coetanee che le hanno insultate e colpite a calci e pugni Un parapiglia acceso che ha portato ad allertare i carabinieri è pure un'ambulanza Una delle due aggredite è dovuta ricorrere alle medicazioni del pronto soccorso Le giovani che hanno commesso l'agguato si sono poi dileguate Ma si sospetta di due studentesse dell'alberghiero E lasciamo la cronaca e ci occupiamo della nuova questura di Pesaro Il cui trasloco negli spazi della caserma Cialdini Ufficializzato a luglio ha ora un cronoprogramma più preciso A delinearlo è stato il ministro dell'interno Piantedosi Che nelle question time del Senato ha risposto all'interrogazione in emerito avanzata dal senatore De Poli Piantedosi ha assicurato che la nuova caserma sarà operativa a settembre 2026 In linea ad un accordo che ne stipulava tempistiche non superiori ai quattro anni della data dell'accordo E continua la mobilitazione del Comitato di Pesaro Che si schiera contro la realizzazione del biolaboratorio in zona Torraccia Dopo un confronto nella sede di quartiere Sono attesi per martedì e mercoledì ulteriori approfondimenti con le commissioni comunali e regionali Vediamo Mercoledì sera l'incontro con il Consiglio di quartiere Torraccia Martedì prossimo il confronto con il Comune e forse con lo stesso Istituto Zoprofilattico Prosegue la mobilitazione di cittadini pesaresi che si oppongono alla creazione del laboratorio di biosicurezza Previsto fra via Furiassi e via Grande Torino in seguito all'assenso comunale Allo spostamento della sede dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche Togo Rosati Attualmente presente in via dei Canonici a Villa Fastigi Da mesi si è creata una mobilitazione contro la delibera di cessione del terreno Approvata il 24 ottobre dal Consiglio Comunale che autorizza un laboratorio di biosicurezza 3 Ovvero una struttura in grado di fare sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro in maxistalle per animali Sperimentazioni che il Comitato di Cittadini Contrare alla Creazione del Laboratorio Sta additando come pericolosi per la salute di animali e persone pur in condizioni di massima sicurezza e contenimento Cittadini Contrare al Laboratorio e soprattutto alla sua realizzazione in una zona prossima ad aree residenziali Il Comitato da settimane ha mobilitato volantinaggio informativo e una petizione di raccolta firme presso tanti esercenti cittadini Mercoledì sera invece c'è stato il confronto del Comitato con il Consiglio di Quartiere Vismara Torrazza che ha ammesso di non essere stato interpellato dal Comune in merito al progetto e che il parere del quartiere non sarebbe comunque stato vincolante Dal Comitato è arrivato il chiaro invito al quartiere a far fronte compatto contro questa realizzazione A partecipare all'incontro anche Michele Redaelli e Giulia Marchionni, consiglieri comunali di un centrodestra che invita a fare maggiore chiarezza sulla questione Idem per Andrea Marchionni che si astenne al voto della delibera di cessione del terreno e Lisetta Sperindei che all'epoca fu l'unica consigliera ad esprimere voto contrario e che ha previsto un ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale di lunedì Preludio a martedì 17 gennaio quando in Comune si riunirà la Commissione Ambiente e Controllo Atti alla presenza di una delegazione del Comitato e probabilmente di una rappresentanza dell'Istituto Zopro Filattico Responsabili dell'Istituto Zopro Filattico che sono anche stati convocati per il 18 gennaio dalla quarta commissione permanente della Regione Marche presieduta dal consigliere Nicola Baiocchi per dipanare ulteriormente i dubbi su questa realizzazione E questa mattina la Banca di Pesaro nella sua consueta conferenza stampa di inizio anno ha ufficializzato importanti sostegni al tenuto sociale cittadino in favore di Caritas e Abbio, il servizio Per noi è una presenza sul territorio, un aiuto a queste associazioni, la Caritas di Ocesana, la Caritas di Villa Fastigi Villa Fastigi è dove c'è la sede storica della banca, l'associazione Abbio che supporta gli aspetti ricettivi dei bimbi in ospedale Per noi è un contributo che diamo per far sì che queste attività vengano portate avanti Ce n'è sempre più bisogno, soprattutto per quanto riguarda i problemi attuali che tutti conosciamo L'aumento dei prezzi, l'inflazione, il rincaro delle bollette, le famiglie di questo ne hanno un grosso disagio Quindi si rivolgono sempre più alle associazioni della Caritas che fanno anche loro con i contributi a loro disposizione Quello che possono, quindi noi vogliamo essere a fianco per dare il nostro contributo Per far sì che la banca di Pesaro sia la banca di riferimento di un territorio Che possa supportare questo territorio in momenti di necessità Lo facciamo destinando le nostre risorse, parte una percentuale dei nostri utili Perché purtroppo come banca noi siamo costretti ad avere un'attività che faccia utili E li stiamo facendo ringraziando l'attività di tutta la struttura E questi utili devono essere accantonati a patrimonio perché la banca si deve rafforzare Una banca locale sul territorio, sostenuta da un gruppo bancario importante che è il CreaBanca Che con l'entrata nelle BCC dà la possibilità a noi piccoli istituti, piccoli e medi istituti Di fare veramente un ruolo importante non solo di erogazione del credito, di investimenti Ma soprattutto di sostegno agli sviluppi della comunità Che sono veramente tanti, soprattutto in una città come Pesaro, vivace Dove ci sono oltre realtà ben individuate e soprattutto ben gestite Gli importi sono importanti del nostro utile e anche delle nostre masse intermediate Che vanno sempre ben spese e quant'altro Non dobbiamo dimenticare che nel corso degli ultimi anni purtroppo Situazioni che indipendenti dalla volontà nostra e dei cittadini abbiamo dovuto affrontare con difficoltà Noi rileviamo un incremento di persone, di famiglie che hanno bisogno Hanno bisogno a motivo di questi incrementi che ci sono stati negli ultimi tempi Legati alla spesa, legati alle utenze E quindi a maggior ragione noi proprio con la campagna d'avvento che si conclude adesso a fine gennaio Abbiamo costituito questo fondo emergenza Chiamiamolo fondo emergenza ma potremmo dire che è un intervento che ci caratterizza sotto questo aspetto Proprio perché rileviamo questa fragilità anche in termini economici all'interno dei nuclei familiari Ancora più dal nostro osservatorio specialmente nuclei familiari dove ci sono minori Abbio Pesaro si trova un po' in difficoltà in questo momento dopo la riapertura Perché siamo in un reparto che è stato praticamente disattivato come arredo, come decorazione Di un reparto per bambini E quindi noi dobbiamo cercare di rifare Sentendo anche ovviamente il parere del nuovo primario Che arriverà a metà gennaio verso il 16 E perché riteniamo che le decorazioni e l'arredamento di un reparto di pediatria Sia fondamentale per la riuscita della terapia o almeno per l'accelerazione della guarigione Perché se il bambino si trova in un locale, in un ambiente in cui può sognare e giocare E quindi è tutto facilitato Teatro Branca, Depuratore, Nuovo Municipio Sono queste tre opere pubbliche pronte ad essere inaugurate nei prossimi mesi Per quanto riguarda il comune di Vallefoglia Ce ne ha parlato proprio il sindaco Palmirocchielli Vediamo Sono tre opere che danno una quantità, una qualità di opportunità ai cittadini Di questa vallata, di questo territorio, straordinarie Perché il depuratore che sarà inaugurato a breve È un depuratore che dopo quello di borgheria Migliora dal punto di vista ambientale, igienico e sanitario Tutta questa area che ha oltre 50.000 abitanti Il comune che sarà inaugurato probabilmente sabato prossimo, il 21 È un'opera che consente di avere una certa qualità della struttura Quindi questa è un'opera per i cittadini Perché avranno tutte le risposte sull'urbanistica, i lavori pubblici Gli istruzioni, i servizi sociali Tutte qui in questa sede Manterremo i rapporti nelle colline Di presenza del sindaco Faremo qualche giunta, consiglio, tutto quello che serve E poi la terza opera fondamentale Qui tutti i comuni confinanti non hanno un teatro Un teatro che sorgerà a Bottega di Vallefoglia Che si inaugurerà la prossima primavera È il teatro Giovanni Santi Ci sono stati 336 posti Quindi cambia radicalmente la qualità della vita di questa vallata Deporazione, operazione ambientale, igienico-sanitaria Di tutela della salute e dell'ambiente di questa vallata Una struttura nuova del comune Che ha una qualità elevatissima Dal punto di vista del risparmio energetico Di tutti i temi della sostenibilità È un'opera culturale per i gruppi musicali I cori, le compagnie dialettali E poi si faranno anche alcuni spettacoli importanti Dentro la rete del sistema degli auditorium Per la musica, per il cinema E della rete teatrale delle marche Domani alle 15.30 si terranno i funerali di Luciana Calcagnini Ex titolare del ristorante La Nuova Casaccia Morta la notte fra mercoledì e giovedì All'ospedale Santa Croce di Fano Dove era ricoverata da un mese per una malattia Cordoglio da parte dei confesi recenti Per una storica associata delle sindacate di categoria Luciana Calcagnini lascia tre figlie Catiuscia, Fulvia e Alessandra Con le quali avviò la nota attività di pasta fresca da Cati In via Vincenzo Rossi, a Pesaro Buone notizie invece per quanto riguarda I centri trasfusionali di Pesaro e Fano Che entro febbraio saranno rinforzati Dall'assunzione di tre nuovi medici Predisposti dalle concorso Bandito dalla Regione Marche Si tratta di un fondamentale sostegno Più volte sollecitato Per fornire piena operatività All'unità operativa di immunomatologia Importanti passi avanti invece Sono quelli nella mobilità sostenibile Delle Comune di Mondolfo Che ha approvato il progetto esecutivo Per realizzare la pista ciclopedonale Che collegherà le località Centocroci e San Gervasio Un percorso di mezzo chilometro per 200.000 euro Di investimenti Che sarà il primo di altri interventi Sulle ciclabili del 2023 Che farà la Giunta Barbieri Parliamo anche però di teatro a Pesaro Un nuovo appuntamento con la comicità In dialetto per la stagione teatrale Della piccola ribalta Nella sede della compagnia di Vè dell'Acquedotto Infatti sabato 14 gennaio alle ore 21 Domenica 15 gennaio alle ore 17 Andrà in scena infatti Chiappè di Parennes Una commedia brillante in dialetto pesaresi Di Antonio Nicoli Per la regia di Alba Russo E dalle teatro alle museo Infatti ad un mese esatto Dall'inaugurazione del museo archeologico liveriano Questo pomeriggio Lente Olivieri Ha inaugurato una due giorni di confronti Sulle prospettive museali delle futuro Vediamo Nuove visioni museali Due giorni di convegno Quali temi che verranno trattati? Siamo colleghi Anche amici Insomma Discutiamo insieme Delle nuove problematiche Dei musei Nell'ambito di una società In continua evoluzione Cambiamento Quindi anche nuovi linguaggi Nuove forme di accessibilità Nuovi sistemi per comunicare Anche più a largo spettro Soprattutto dopo il tempo di Covid Che ha portato la necessità Come abbiamo visto Anche di fruire maggiormente Delle tecnologie digitali È un convegno Che si Un seminario Che si svolge principalmente Tra le Marche in Roma Molti dei relatori Vengono da realtà Importanti romane C'è Valentino Nizzo Ad esempio Il direttore del Museo Nazionale Etrusco Di Villa Giulia Marco Arizza Del Consiglio Nazionale Delle Ricerche Che ha tra le sue tematiche principali Di ricerca L'etica Nell'esposizione Dei reperti umani E della ricerca Applicata ai resti umani E altri colleghi Insomma Mi dispiace citarne Solo alcuni per tutti E poi anche Colleghi che si occupano Invece delle realtà Marchigiane Come Luigi Gallo Il direttore Della Galleria di Urbino Diego Voltolini Direttore del Museo Nazionale Delle Marche E quindi è un'occasione Questa L'inaugurazione del Museo Oliveriano Per riunirci Intorno a un tavolo Figurato E parlare appunto Delle nuove strategie In campo museale In un anno che anticipa Il 2024 In cui Pesaro Sarà capitale della cultura Sì È un avvio Come è stato L'inaugurazione del museo Diciamo Sono una serie di tappe Che poi porteranno All'anno Al 2024 Proprio oggi Ricorre il primo complimese Del nostro nuovo Museo archeologico Oliveriano E questa volta Dopo la grande festa Insomma Di dicembre Abbiamo pensato Di organizzare invece Un convegno Un momento di studio Di riflessione E soprattutto Di confronto Con altre importanti Istituzioni Archeologiche Museali E infatti Avremo come ospiti Direttori e responsabili Di alcune delle più Interessanti Organizzazioni Insomma In questo senso Che arrivano O dalle Marche Quindi abbiamo I rappresentanti Del Museo archeologico Di Ancona O di Ascoli Piceno Ad esempio Oppure anche Istituzioni romane Tra le quali Ad esempio Il Museo Etrusco Di Villa Giulia E il tema Di queste due giornate Di studio Sarà essenzialmente Quello di un approfondimento Relativo soprattutto Alla comunicazione Quindi al modo Di confrontarsi E di raccontarsi A un pubblico Sempre più vasto Che è quello Che noi abbiamo Iniziato a fare Appunto Con la nostra festa Di dicembre Che poi Vorremmo continuare A farlo E soprattutto Farlo anche Secondo i più Rinnovati E importanti Anche i principi Metodologici Del settore L'organizzazione Di un convegno A integrazione Di quell'evento Straordinario Che è stato L'inaugurazione Del nuovo allestimento Del Museo Oliveriano Lo scorso dicembre E questo è un momento Di riflessione Di approfondimento Scientifico In un momento Particolarmente delicato Per quanto riguarda Anche le marche Perché l'inaugurazione Diciamo di un museo La nascita Una nuova collezione È un momento Straordinariamente Importante Di felicità In qualche maniera E soprattutto In un posto Come questo In cui tra la fine Del 2016 E il 2017 Invece a seguito Dei venti sismici Molti di questi musei Sono stati Molti dei musei Dell'area del caratere Che non hanno interessato Pesano Ma sono stati Chiusi Disallestiti Mostre temporanee Che sono state Fortemente danneggiate Quindi L'inaugurazione Di un museo Con una serie Di attività Collaterali Quali un convegno Dedicato Alle dinamiche Museografiche E di esposizione Rappresentano Certamente Un momento Di crescita Importante Per la comunità E per Tutti gli addetti Ai lavori Ed era questo L'ultimo servizio Di questa edizione Di Rossini News Prima di lasciarvi Però le previsioni Delle meteo Andiamo a vedere Quale sarà la prima serata Di questa sera In onda Su Rossini TV Alle ore 21.20 Avremo una commedia Dalle titolo L'anatra All'arancia Ore 21.20 La nostra prima serata Di questo venerdì sera E vi ricordo E vi ricordo L'appuntamento Consueto Delle sabato mattina Con la nostra Rassegna stampa Della provincia Di Pesaro Urbino Alle ore 7.20 Puntualissime Saremo in diretta Qua sul canale 80 Ma anche live Sulla nostra Pasina Facebook E domattina Ci sarà Il nostro Antonio Astuti Ed è davvero tutto Con questa edizione Di Rossini News Vi auguro Un buon Fine settimana Vi lascio Le previsioni del meteo E vi auguro Una buona serata Con i nostri programmi